Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è sabato 11 dicembre 2021. Il sole sorge a Fano alle 7.29 e tramonta alle 16.30. Oggi si festeggia San Damaso Papa. Era un personaggio spagnolo che giovanissimo arrivò, si trasferì a Roma e ricevete gli ordini sacri sotto il Papa Liberio. Esiliato quest'ultimo dall'imperatore Costanzo, Damaso lo seguì, fu una specie di suo segretario e alla morte del Papa fu eletto suo successore. Si distinse per le sue virtù, per il modo in cui gestiva l'evangelizzazione nei confronti dei pagani. Pensate, da Papa convocò addirittura due concili, uno nel 365 contro l'eresia di Ario, l'altro subito dopo contro l'eresia di Apollinare. Sotto il suo pontificato, un dato importante, San Girolamo ricevette l'incarico di tradurre tutti i libri della Bibbia in latino. E quindi fu un evento epocale, perché poi da lì, insomma, questi libri continuarono per tutta la storia della Chiesa. E veniamo alle previsioni del tempo. Oggi il tempo è sempre compromesso, spira un forte vento, un forte vento, le raffiche si sono sentite anche nel corso della notte. Sulle marche c'è maltempo, con rovesci e nevicate dai 200 a 300 metri. Migliora però nel pomeriggio e sera a iniziare da nord. Il clima è particolarmente freddo, la massima arriverà fino a 10 gradi, la minima a 4 gradi. E diamo un'occhiata ai giornali questa mattina a partire dal resto del Carlino. La prima pagina evidenzia un titolo che riguarda quello che è accaduto a un gruppo di contestatori che assediò la casa del sindaco Ricci a Pesaro. L'assedio al sindaco saranno 19 gli indagati e il gruppo dei contestatori che urlò slogan sotto la casa di Ricci nel luglio scorso, tra loro anche Carriera. Siamo vicini al collasso, il titolo della fotonotizia centrale. Si parla sempre del dramma omnipresente, tutti i giorni se ne parla della carenza di personale nella sanità, molto critica, in modo particolare nel pronto soccorso. E poi vediamo ancora un fatto di cronaca, aggressione al pub. Un ultravisse va in carcere e ha 8 anni dal fatto. E poi ancora Fano, un ragazzino travolto alla fermata del bus, era sceso appunto dall'autobus e stava attraversando la strada. Ancora sanità per quanto riguarda l'assetto regionale, terapie intensive, troppi ricoveri. Dipende anche dai tanti posti letto. E a Vallefoglia le mascherine sono state rese obbligatorie da una ordinanza del sindaco Occhielli. Per quanto riguarda lo sport, vediamo le notizie a fondopagina. Tifosi del Fano accusano la società e il comune. Insomma, la crisi travalica il dato sportivo e insomma coinvolge anche quello strutturale. E per quanto riguarda la VL, si vuole conferme, ma Delfino è in forze. Stasera la sfida con il Treviso. Pazienti parcheggiati in Barella per giorni. Siamo vicini al collasso, intitola oggi il resto del Carlino. È il grido di allarme dei sindacati di Marche Nord e dell'area vasta 1. La Regione metta a disposizione risorse e personale prima che sia troppo tardi. Insomma, si fa sempre ancora più forte, più critica la carenza cronica di personale. Ci sono ferie da smaltire degli ultimi due anni. Personale che se può fugge, reparti ridimensionati e quindi prestazioni ridotte. Assunzioni rinviate all'anno nuovo. Insomma, la situazione è sempre più problematica. Sinergie mancate. Abbiamo oltre il 50% dei posti letto per Covid della Regione. A Civitanova gli aiuti gli abbiamo dati. Hanno dichiarato appunto i componenti del personale pesarese, dell'organico pesarese. Terapie intensive. Da noi ci si finisce più spesso, è l'esito di un rapporto alla popolazione. Le Marche sono al quinto posto in Italia. Chiarello abbiamo più letti. Possiamo anticipare il decorso. E in merito a questa notizia vediamo queste due tabelle. E vediamo come per quanto riguarda i nuovi casi positivi, le Marche si attestino a metà classifica. Sono 2.868 i nuovi positivi e 189,60 il tasso su 100.000. Per quanto riguarda la terapia intensiva, invece, le Marche navigano sulla parte alta della tabella e sono al quinto posto con 31 degenti in terapia intensiva con un tasso su 100.000 di 20,49. Togliendo i non vaccinati, pari al 74% dei ricoverati, dovremmo essere al 6% di occupazione. Invece siamo al 20,49. E tra questi ci sono anche... No, tra questi non ci sono, però insomma il problema coinvolge anche le istituzioni, le squadre di soccorso. Vediamo questo articolo. Pompieri. 23 sono novax. Dal 15 dicembre verranno sospesi. Il comandante Leonardo Rampino avverte, auspico che ci ripensino. E qualcuno lo ha già fatto. Ma comunque il pronto intervento è garantito. Noi siamo complessivamente circa 200 effettivi, dice il comandante. Se il 10% non è vaccinato, incide poco nella organizzazione del servizio, perché siamo suddivisi in 5 sedi su 4 turni. Quindi potrebbe risultare mancante in un turno solo un uomo a Pesaro e un altro a Urbino. Insomma, un uomo in meno non dovrebbe incidere, anche se l'organico complessivo dei vigili del fuoco non risponde pienamente alle esigenze del territorio. Comunque il problema in questo momento non è così emergente come invece lo è quello della carenza del pronto soccorso dell'ospedale. Assedio alla casa di Ricci, indagato anche Carriera, è accusato insieme ad altre 18 persone di violenza privata e minaccia aggravata per aver impedito di uscire alla famiglia del sindaco. In questo caso si evidenziano anche i mancati controlli, perché un centinaio di persone sono riuscite ad arrivare nei pressi dell'abitazione senza alcun problema. A loro viene contestato il reato di violenza privata, che nasce dal fatto che i manifestanti avrebbero impedito ai familiari del sindaco di uscire dall'abitazione sequestrandoli in casa. Insomma, una situazione che è accaduta il 28 luglio scorso è adestato piuttosto clamore. Vaccino anche in farmacia e le prime dosi crescono. Le prenotazioni in alcuni esercizi arrivano già a febbraio, quindi a lunga distanza Pfizer o Moderna. Questi sono i vaccini disponibili, anche se Moderna non è stato ancora consegnato, comunque insomma arriverà. Tanti cittadini prenotano le vaccinazioni al Rossini Center direttamente in farmacia e sono aumentate anche le richieste da parte di coloro che devono fare la prima dose perché la tendenza è un po' cambiata e ora ci si vaccina. Così dice il dottor Stefano Golinelli che è presidente provinciale di Federpharma. Insomma, uno sviluppo, un aumento delle persone che accettano di vaccinarsi anche perché le disposizioni contro i Novak sono molto molto stringenti. Riaprirà oggi via San Decenzio una sola corsia in uscita verso il Carducci e riattivata la navetta. Lo ha dichiarato l'assessore Belloni. Non potevamo aspettare ancora, ha dichiarato. E qui vediamo invece l'articolo che riguarda l'Ultra Service che paga il conto dopo diversi anni da quanto è stato oggetto di reato. aggredì nel 2013 con una bottiglia rotta un cliente in un pub fanese. Pochi giorni fa la conferma della Cassazione 5 anni l'uomo è finito in carcere. La vittima ebbe ferite al volto tali da doversi sottoporse ad un intervento facciale quindi un'aggressione piuttosto violenta. Gli itinerari della bellezza alzano i numeri. C'è stata una convention l'altra sera a Fano a Villa Picinetti organizzata dalla Confcommercio nel corso della quale il dirittore provinciale Amerigo Varotti ha relazionato su un consuntivo di attività dell'associazione di categoria di fronte a una platea composta da 16 sindaci ma anche da tre assessori regionali il vice presidente Mirko Carloni l'assessore Baldelli e l'assessore Aguzzi c'erano anche altre persone interessate operatori turistici perché l'opera promozionale fatta dall'associazione di categoria ha inciso in maniera rilevante nelle presenze turistiche grazie anche ad uno strumento di promozione che ha avuto successo ed è l'itinerario della bellezza un itinerario che poi focalizzando diversi aspetti ha così suscitato diversi interessi secondo poi le passioni dei turisti gli interessi stessi dei turisti abbiamo quindi gli itinerari dell'archeologia gli itinerari del silenzio e della fede l'itinerario delle rocche di Francesco di Giorgio De Martini l'itinerario di Giovanni Santi il padre di Raffaello l'itinerario della riviera di San Bartolo e quella di Fano insomma ci sono diverse possibilità di scelta che esaltano le bellezze del patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio addirittura non si è fermata qui l'attività dell'associazione di categoria ma ha così gestito direttamente alcune istituzioni come il museo dei bronzi dorati di Pergola e il risultato è stato eclatante perché si è passati dai 900 biglietti strappati nel quattro anni fa a 5.500 di quest'anno e l'anno non è ancora finito e ritorno all'argomento della sanità sul resto del Carlino ospedali 183 milioni sotto l'albero è il fondo compreso nel PNRR destinato appunto alle strutture sanitarie delle Marche ma si devono però presentare i progetti al Ministero entro la fine di febbraio e vediamo come verranno ripartiti questi soldi 42,5 milioni di euro saranno destinate a 29 case della comunità 5,12 milioni per 15 centrali operative territoriali 23,2 per 9 ospedali di comunità 0,7 per creare e mettere a regime 4 nuovi flussi informativi nell'area dei servizi territoriali e poi c'è tutta la rete ospedaliera che ha bisogno di finanziamenti per il suo adeguamento strutturale tecnologico e digitale 33,6 milioni per la digitalizzazione del pronto soccorso di primo e secondo livello 27,6 per le grandi apparecchiature 48,4 per adeguamenti antisismici il conto complessivo è 108 milioni di euro per la rete ospedaliera dunque risorse importanti per il nostro sistema sanitario e vediamo ora la pagina di Fano la pagina di Fano evidenzia una iniziativa che alcuni operatori che si dedicano alle attività commerciali hanno organizzato al Lido di Fano il Lido non è un quartiere da frequentare soltanto d'estate ma può essere bello farlo anche d'inverno e grazie appunto all'attività di questi operatori sono una trentina di aziende quindi ci sono in primo piano perché sono aperte anche d'inverno che hanno organizzato un'atmosfera di Natale quindi non solo centro storico ma anche zona male proprio in questo periodo si vedrà un bellissimo albero di Natale nei pressi di piazzale Amendola di fronte al Bellavista un boschetto natalizio davanti al tinto un gioco di luci sulla facciata della storia musica lunga tutto a lungo tutta la passeggiata che sarà valorizzata da un tappeto lungo un tappeto rosso lungo pensate 600 metri per l'allestimento natalizio e ogni attività organizzerà delle proprie attività all'interno del proprio locale insomma anche a Lido ci si diverte e si vive l'atmosfera del Natale ed ora vediamo fatto di cronaca ragazzino di 11 anni travolto alla fermata del bus portato in eliambulanza ad Ancona è rimasto vigile pur essendo in prognosi riservata sembra che stesse attraversando la strada dopo essere sceso appunto dal bus di fronte al ristorante all'ex ristorante Pantalin lungo la vecchia Flaminia un altro incidente che è accaduto in questo tratto di strada molto pericoloso la bontà si paga cara olio da 20 euro al litro a Cartoceto domani al teatro del trionfo di Cartoceto la presentazione della produzione a olearia appunto del comune qualità alta con una bassissima acidità ma ovviamente anche il prezzo sale e veniamo ora al Corriere Adriatico dove vediamo che si parla anche qui di pronto soccorso un grido di sofferenza dice il titolo del Corriere dal pronto soccorso un grido di sofferenza un dovere è ascoltarlo da Ricci alle parti sociali un pressing sulla regione perché si rafforzi il personale le strutture insomma il sistema sanitario langue e in questo periodo di cui c'è molto bisogno di prestazioni da parte di medici e infermieri occorre appunto rafforzare questo settore e non solo per Marche Nord ma anche per le altre strutture della regione vediamo quali sono le criticità evidenziate dal Corriere posti letto covid terapie intensive attivate in regione 80 posti così ripartiti 41 a Marche Nord 28 agli ospedali riuniti di Torrette 2 al Salesi 4 a Fermo e 5 a San Benedetto operatori mancanti al presidio Marche Nord alla data del 10 dicembre ovvero ieri 50 operatori sanitari e sociosanitari di cui 38 sospesi perché Novax 12 assenti per altri motivi legati all'obbligo del Green Pass il personale precario dal 15 ottobre al 10 dicembre è formato da 30 unità gli operatori sociosanitari non rinnovati 27 sono gli operatori in sostituzione assunti dall'azienda Marche Nord mentre in un anno i medici in servizio al pronto soccorso Marche Nord sono diminuiti del 37,5% da 40 del dicembre del 2020 sono passati a 25 appunto al dicembre di quest'anno non si investe sul personale così si peggiora ogni giorno è il commento del direttore del pronto soccorso di Pesaro Umberto Gnudi il cui volto vediamo spesso in questi giorni sui giornali chiesto un rinvio di 180 giorni ora è a rischio il progetto e in questo caso si parla del biodigestore anaerobico infatti la società Green Factory che dovrebbe realizzarlo ha chiesto e ottenuto dalla provincia una proroga di 180 giorni per consegnare la documentazione richiesta nell'ambito del procedimento di autorizzazione di questo impianto che dovrebbe produrre metano e compost per l'agricoltura attraverso la lavorazione ormai lo sappiamo della frazione organica dei rifiuti un impianto che dovrebbe trattare 105.000 tonnellate all'anno di rifiuti progettato per Talacchio di Vallefoglia dalla società di scopo Marche Multiservizi e ancora non si sa nulla su quello che accade invece per quanto riguarda l'impianto alternativo di Fano commissionato ad Aset Spa basta con tanti rifiuti da fuori regione l'appello di Marta Ruggeri che in consiglio regionale ha dichiarato il voto contrario alla delibera che si appresta a votare la regione basta con i rifiuti da fuori regione Marta Ruggeri capogruppo di Movimento 5 Stelle in consiglio regionale annuncia il voto che definisce convintamente contrario alla proposta di aumentare per l'annualità in corso le importazioni e conferimenti dei rifiuti da fuori regione nella discarica di Monte Schiantello riapriamo via San Decenzio non possiamo più aspettare l'abbiamo già visto sul resto del Carlino l'assessore Belloni annuncia il senso unico a partire da oggi e poi due fatti di cronaca ultra pestò a sangue un ragazzo al pub dopo quasi otto anni condanna ai carcere già a Villa Fastigi già appunto in prigione il trentenne tifoso che dovrà scantare una pena cumulativa di oltre cinque anni una pena piuttosto severa e qui invece abbiamo un caso di un pitbull che ha ucciso un altro cane padrone a processo ma da quarant'anni quel reato non esiste più il proprietario è stato infatti prosciolto anche se ci sarà una coda per quanto riguarda il dibattimento in sede di processo civile per il risarcimento insomma da quarant'anni non c'è più il reato commesso da il padrone di un cane che azzanna un altro cane ovviamente non il padrone ma il cane stesso Palla del Bellini facciamo uno sforzo riportiamo a Pesaro anche la Cimasa magari si potesse completare questo capolavoro che viene costudito nei musei civici di Pesaro sì perché la Cimasa vediamo qui nella foto che cos'è la Cimasa questa parte superiore del dipinto e la vediamo vuota ebbene questa pala è contenuta nei musei vaticani e completerebbe il capolavoro del Bellini che è una delle opere d'arte più prestigiose di tutte le marche la proposta è del capogruppo PD Mattioli che fa parte della Commissione Comunale Cultura a Vallefoglia vediamo il Palmiro Ucchielli il sindaco che ha imposto l'obbligo delle mascherine firmando una ordinanza da domani e fino al 9 gennaio prossimo si dovrà indossarle anche all'aperto a Urbino per la legge Urbino Capoluogo la Commissione sia deliberante la richiesta è del senatore Londèi per ottenerne l'approvazione il caso Montefeltro e poi a Fano invece vediamo l'apertura dedicata al fatto di cronaca il bambino il ragazzino falciato mentre attraversa vediamo qui il punto critico della statale Flaminia dove si è verificato l'incidente il bambino investito da un furgone soccorso dall'eliambulanza una dinamica drammatica dopo l'urto il piccolo è stato scaraventato sotto un'auto sotto gli occhi di un fratello pensate il dramma di questi due ragazzini abbiamo visto però per fortuna il ragazzino è rimasto sempre vigile e questo fa così sperare in una sua pronta guarigione assunti altri sei vigili urbani dall'amministrazione comunale e ci sono anche altri ingressi in comune 20 ingressi per il portavoce del sindaco raddoppia il lavoro col contratto a tempo pieno il Lido piace anche d'inverno con colori e calori del Natale sodalizio tra operatori e comune per un suggestivo allestimento a tema e poi abbiamo il rilancio del porto di Fano con il cantiere Wider la Giunta ha approvato un adeguamento del piano per la rinascita della Nautica c'è un grande spazio l'ha annunciato il vice sindaco Cristian Fanesi al porto dove sarà eretto un nuovo cantiere e quindi una possibilità un'opportunità in più per che la cantieristica che un tempo era il portabandiera dell'economia fanese possa risorgere e ritrovare i tempi d'oro a Fossombrone per le Cesane 200.000 euro stanziati la promessa è della provincia per il finanziamento dei lavori lungo la strada che è ridotta in uno stato pietoso ammalorata il primo tratto dovrebbe essere realizzato con questa cifra a primavera fino alla rocca del Montefi del la rocca ducale che le cui rovine sono sulla collina di Fossombrone e a questo punto diamo un'occhiata allo sport vediamo che per quanto riguarda la vis la squadra è pronta per il saltino così viene definita la partita di domani di domani si giocherà alle 17.30 contro una Parigrado e Limolese al di là del risultato è l'occasione per dimostrare a noi stessi ha detto il tecnico Banchini qualcosa di più quindi uno sprone per far vedere quanto si vale il Fano invece rischia la retrocessione tifosi scatenati contro società e comune via vai senza fine di gente ci attendono sconfitte e delusioni e lo stadio casca a pezzi insomma vediamo qui il tumulto dei tifosi che inveiscono un po' contro la società a causa dei risultati che non arrivano e il pessimo stato della classifica la VL vuole allungare la striscia positiva stasera alle 20 a Treviso ci sarà una diretta su Eurosport i biancorossi sono a caccia di un'altra vittoria la presenza di Delfino è ancora incerta un giocatore che potrebbe fare la differenza e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì alle ore 7 e quindi per altre notizie questa sera nel notiziario di Fano TV condotto da Simona Zonghe alle ore 20 e 30 buona giornata Sì a 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 Grazie a tutti.